Solo la poesia, con la sua delicata potenza, ha la capacità di raggiungere insperati obiettivi. Solo la poesia può raggiungere mete che portano alla pace. Con la poesia noi possiamo andare oltre. Con la poesia induciamo la prevenzione, perché la prevenzione salva la vita. Se scrivi poesie, contribuisci anche tu, partecipando alla settima edizione del premio letterario di poesia, fino in fondo. Per tenere alta l'attenzione sul tema dei tumori del seno, e più in generale della salute femminile, è promuovere, in modo concreto, la prevenzione nelle sue diverse forme. Per sostenere le donne che vivono l'esperienza del tumore al seno. Per potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute. Per aiutare altre associazioni a mettere meglio in gioco idee virtuose. Il ricavato dalla partecipazione al concorso sarà quindi interamente devoluto in favore dei progetti della Comen Italia per la lotta ai tumori del seno. Il ricavato dalla partecipazione al concorso sarà quindi interessa.